Ricordare la propria storia è una sorta di dovere di ogni cittadino, a maggior ragione è un compito che spetta alle amministrazioni comunali, chiamate anche a celebrare i concittadini illustri che hanno contribuito a scrivere la stessa storia di una comunità. In questa ottica va vista la giornata in onore del beato Francesco Marino, organizzata dall'amministrazione comunale di Zumpano, centro alle porte di Cosenza. Attraverso il contributo di studiosi e religiosi è stata ricordata questa importante figura nel suo cinquecentenario. Ma si tratta solo del primo di una serie di appuntamenti che l'amministrazione intende organizzare. Quest'anno noi festeggiamo i cinquecento anni di questa figura del beato Francesco Marino da Zumpano, che è stato un agostiniano ed è stato uno dei riformatori di questa congregazione. Una figura da studiare, da emulare, da far naturalmente conoscere ai propri cittadini. Infatti da questa sera, per un anno, noi ci occuperemo di questa figura storica, insieme naturalmente alla collaborazione dei illustri storici e alla collaborazione della Curia, che naturalmente ci seguirà in questo cammino.